Dove investire prima che arrivi una recessione che può diventare stravolgente e creare tanti tanti problemi? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video che parla di asset, di investimenti, di scelte strategiche che devono essere fatte prima dell'arrivo dell'anno 2024 e che includono anche ovviamente le criptovalute. Come è cambiato lo scenario macroeconomico, quello che abbiamo seguito tutto l'anno per quanto riguarda i mercati finanziari che ha impattato anche notevolmente sui mercati delle criptovalute, facendo comunque anche un po' il buono e il cattivo tempo. Abbiamo visto Bitcoin agire con una fase rialzista nell'anno 2023 per poi andare a lateralizzare in versione cammello e qui essere in un grande limbo, in un grande punto interrogativo che dovremmo nei prossimi giorni anche andare a comprendere dove può andare a parare, ecco diciamo questa cosa. Però la domanda vera da parte in questo contesto ragazzi è possibile allargare quelle che sono le nostre vedute anche ad altri asset perché è una situazione unica a livello macroeconomico la prima volta dopo il 2007 che avviene una cosa del genere e una persistenza dei tassi di interesse alti nel corso del prossimo anno con un'inflazione che non è diventata proprio insostenibile che però comunque stenta ancora ritornare a livelli chiave, quelli che erano i livelli che erano attesi in pratica e che quindi ha spinto anche un po' quelli che sono stati i tassi di interesse a massimi che non si vedevano veramente ragazzi, guardate qui dal 2007, gennaio del 2007 questi sono il grafico dei FedFunds. Alcune cose sono cambiate dall'inizio dell'anno 2023 e bisogna analizzarle anche in un contesto di aggiornamento di quelli che sono i dati e ci sono dei punti cardine che andiamo a vedere in questo video andiamo a capire le politiche delle banche centrali, Fed ma anche BCE che cosa stanno facendo e cosa potrebbero fare e cosa potrebbe verificarsi dalla fine dell'anno 2023 al primo trimestre 2024 per prepararci in questo contesto e quali sono i migliori asset da tenere sotto il vostro cappello sotto la vostra screen in modo tale da andargli a guardare costantemente, monitorare ed eventualmente andare a investire e che ruolo potrebbero avere le criptovalute in questo contesto ben determinato. Partiamo subito con l'analisi di quello che è l'attuale dato e l'attuale scenario partendo sostanzialmente da questo livello. Tassi di interesse molto elevati ma inflazione leggermente sostenuta ragazzi inflazione leggermente sostenuta tant'è vero che sono appena usciti anche i dati dell'IPP e quindi l'indice dei prezzi della produzione che hanno mostrato per il terzo mese di fila un rialzo rispetto alle fasi ribassiste che hanno fatto ridurre il tasso di inflazione ma soprattutto un rialzo peggiore rispetto a quello che era l'attese. L'IPP se sale troppo significa che poi si scarica sull'inflazione. Questo significa che l'inflazione è persistente ma non in maniera estremamente grave. le banche centrali questo lo hanno capito. Ciò significa che i tasti di interesse Fed Funds saranno alti for longer. Cioè saranno mantenuti alti per tanto tempo. Quindi sicuramente a meno di questioni legate alla questione bellica attuale almeno fino a maggio-giugno dell'anno 2024 e poi si vedrà perché l'arrivo del tasso di inflazione a un livello attuale che è quello intorno al 3% è stato abbastanza tra virgolette semplice. Diciamo non era semplicissimo però è stato veloce. Possiamo vedere infatti la riduzione avvenuta in maniera consistente del tasso di inflazione nell'ultimo anno. Questo segno che le politiche da parte della banca centrale hanno strafunzionato ragazzi. e ancora una volta hanno un po' messo una pezza a questa fase che poi avevano creato loro stessi a dire la verità. Però c'è da dire che il raggiungimento del target dell'inflazione intorno a questa lineetta che vedete cioè il 2% circa è lontano e soprattutto questa fase è stata più semplice ma la fase finale cioè quella che porterebbe il tasso di inflazione degli Stati Uniti e anche quello dell'Europa a questo livello è l'ultimo miglio e come sempre l'ultimo miglio è la parte più difficile. Una parte che in pratica esigerà un po' di sangue sotto i ponti. Questo è il concetto di fondo. Ci sono dei dati che ci portano a dire che le banche centrali non molleranno la presa per tutto l'anno e anche su questo dato è molto importante ragionare perché nei prossimi video ragazzi che andremo a fare ragioneremo su Bitcoin e sulle cripto che affronteranno per la prima volta nella loro intera vita questo scenario quindi questo scenario economico lo dovete imparare a memoria perché dipende anche da questo se siete amanti degli investimenti in cripto tutto quello che sarà lo scenario cripto e dovremmo capire tante tante cose è anche interessante diciamo per la prima volta assistere a questo tipo di movimento. Allora quali sono i dati che fondamentalmente ci portano a dire o mi portano a dire che le banche centrali manterranno i tassi per lungo periodo? Intanto la questione legata alla crescita economica crescita economica che non è mai 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 ragazzi diminuita anzi non è avvenuto assolutamente niente non c'è stata nessuna tendenza alla recessione questo è il prodotto interno lordo ed è incredibilmente in fase di risalita c'è da dire che questo ovviamente è su fase trimestrale perché non ha senso guardarlo in altri modi un po' una curvettina potrebbe verificarsi da notare ragazzi come il prodotto interno lordo vedete a meno di strette recessive sale costantemente in pratica e vi faccio capire anche l'ultima recessione quando l'abbiamo vista l'abbiamo vista ovviamente durante la fase del covid ma era una recessione indotta che però è durata poco non ha avuto grandi periodi una lunghezza adeguata perché sostanzialmente vedete ha fatto un picco dovuto proprio all'aprile del 2020 dovuto al covid alla pandemia ma poi è risalita immediatamente dopo e ha iniziato sostanzialmente a continuare la sua fase di rialzo la precedente recessione che badate bene dobbiamo andare nel luglio 2008 quindi tutto l'anno 2008 per vedere la prima recessione è dura in pratica dalla luglio 2008 fino almeno a luglio 2009 un anno, un anno e mezzo quindi questa qui invece è durata da gennaio 2020 a luglio del 2020 quindi pochissimo è stata molto veloce qui invece avremo un anno e mezzo abbiamo avuto un anno e mezzo di recessione in questo contesto Bitcoin non esisteva o meglio in realtà esisteva ma era minuscolo troppo piccolo e l'intero mercato crypto comunque non c'era quindi PIL in continuo aumento questa cosa non va bene io l'ho ripetuta tante volte anche ultimamente e poi vi faccio vedere l'altro dato rilevante il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti è troppo basso questo è lo ripeto ribadisco da gennaio del 2023 vi parlo di questo dato e dell'importanza di questo dato per agire sugli investimenti sul lato investing è troppo basso ragazzi è un tasso di disoccupazione che in pratica noi non vedevamo veramente da tanto tempo lo avevamo raggiunto nel luglio del 2019 e poi negli anni 60 ragazzi quindi questo tasso di disoccupazione è per l'economia attuale al di sotto del livello naturale di equilibrio che è intorno al 4-4,50% questo è il livello naturale di equilibrio del tasso di disoccupazione qui siamo sotto ciò significa che fino a quando siamo in questo contesto i tassi continueranno ad essere elevati per lungo periodo non è detto che la banca centrale e le banche centrali decidano di continuare ad alzare questi tassi perché potrebbero tranquillamente decidere di mantenerli stabili fino a quando questi tassi non avranno un impatto oggettivo poi a livello economico andando a ridurre la spesa al consumo per quanto riguarda il credito che verrà messo verrà diminuito andando a ridurre quella che è la richiesta di prestiti e di mutui e quindi il mercato immobiliare e andando di conseguenza a ridurre anche i valori delle materie prime che dovrebbero calare a causa della diminuzione della domanda tutto questo contesto ragazzi fino ora non è avvenuto per alcuni problemi classici primo le liquidità accumulate durante gli anni della pandemia anni in cui la spesa era povera poco ridotta ragazzi la spesa al consumo delle persone quello che è stato fatto è stato gli incentivi statali che hanno spinto il sistema economico ma le spese dei consumatori erano basse quello ha significato che i consumatori avevano tanta liquidità quindi c'era tanta liquidità che poi si è riversata sul mercato immediatamente dopo la pandemia quindi un effetto domino da questo punto di vista poi c'è stato un altro effetto dal lato delle scorte perché a livello delle scorte tutte le industrie in generale hanno dovuto riequilibrare tutte le scorte che c'erano dopo le crisi dovute alla stop delle produzioni della pandemia e quant'altro quindi c'è stato un doppio effetto che ha spinto sostanzialmente la spesa e il sistema economico e quindi in questo anno 2023 gli effetti dei tassi di interesse alti non si sono visti per questo motivo quindi ci sono stati e anche per un atteggiamento anche dovuto ai consumatori che ovviamente usciti fuori da una pandemia figuratevi se volevano stare a casa di nuovo e non spendere cioè spendevano tutto quello che potevano questo è ovvio un effetto di natura sociale da un punto di vista socio-economico e quindi questi sono stati i due effetti principali che hanno causato un soft landing in questo caso anzi non c'è stato proprio neanche il landing che abbiamo continuato a salire quindi questo dato del tasso di disoccupazione è fondamentale fino a quando non lo vediamo in questa sticella non avremo effetti importanti quindi i tassi saranno mantenuti alti c'è un altro fattore che non piacerà a molti di voi il premio pagato da parte dei mercati azionari rispetto anche le cripto rispetto a quelle le cripto un po' di meno però ragazzi però il mercato azionario sicuro rispetto a quelli che sono gli attuali livelli dei tassi di interesse sono troppo bassi che cosa significa che il premio azionario per il rischio assunto ovviamente è troppo basso che i prezzi delle azioni sono troppo alte ragazzi questo è il significato cioè noi abbiamo dei livelli azionari e non guardate il Nasdaq perché in questo contesto Nasdaq non fa testo per un motivo che vi dirò tra poco ma fa testo l'SP500 per esempio oltre anche altre banche pure quelle europee non è che siano messe malissimo la Germania vi ricordo che nell'anno 2023 ha fatto i massimi storici dell'indice DAX30 quindi tante cose allora questi prezzi sono troppo alti quindi premio premio per gli investitori nel mercato azionario è basso perché se io investo qui ho più rischi che possibilità di guadagno se io invece investo qui ho un premio più alto perché posso assistere a una curva di rendimento di profitto più alta quindi questo significa quando dico che i premi il premio a livello azionario è troppo basso questi contesti ragazzi lasciano spazio a una e una sola cosa come asset finanziari infatti noi andiamo ora a guardare appunto a rispondere un po' a queste domande a questa domanda dove investire quali sono gli asset perché in realtà in un contesto higher for longer quindi tasche di interesse che saranno mantenuti alti per tot tempo non sappiamo se scenderanno addirittura se l'inflazione non farà retromarcia continueranno addirittura ad alzarli un altro poco magari un altro pochino altro 0,25 che cosa succederà e quali sono gli asset che dovremmo tenere sotto il nostro osservatorio nel prossimo anno questa è la vera domanda cioè come facciamo a sfruttare questo momento ragazzi vi assicuro che questi sono i momenti più ghiotti perché ci sono tante occasioni sul mercato e si possono veramente andare a sfruttare punto primo l'asset per eccellenza quando si aspetta una recessione economica sono le obbligazioni ragazzi ok i titoli di stato in Italia il BTP se siete in Italia se volete comprare quelli stranieri ce ne sono di tutte le tasche di come vi pare vi piace eccetera sono anche le obbligazioni corporate le obbligazioni sono lo strumento numero uno a livello ciclico quando si parla di una recessione imminente quindi se le banche centrali agiranno sostanzialmente ragazzi agiranno per mandare l'economia in leggera recessione fin tanto che non vedono tassi di soccupazione in aumento PIL in decrescita prezzi al consumo e spesso al consumo al ribasso e prezzi che scendono non muoveranno i tassi fin tanto che quello non avviene loro non muoveranno i tassi ragazzi cioè se non avviene li continuano ad alzare fino a quando avviene cioè in pratica è come se ci fosse una direzione univoca il tentativo delle banche centrali è di non aggredire i mercati non fare in modo che questi mercati possano crashare troppo velocemente perché poi sarebbe un problema contrario quindi devono mantenerni in un limbo laterale ribassista fino a quando non si assestano dove devono andare ma questa cosa questo movimento questo assestamento questo arrivo in un sort of landing eventuale in una recessione un pochettino più piccantella è obbligatorio quindi non c'è un'altra soluzione a questa cosa non esiste almeno in questo momento perciò faranno di tutto per mandare l'economia in leggera recessione senza fare crash camorosi se ci riescono ben vengono altrimenti altre volte intanto hanno creato dei super crash clamorosi questo significa che in questo contesto i titoli di stato le obbligazioni diventano il primo asset fondamentale da andare a conoscere vi ho fatto un video corso dove spiegavo tutto quello che riguarda le questioni legate ai titoli obbligazionali come funzionano andatelo a vedere ve lo lascio sulla mia testa perché è un asset che è cripto o non cripto amanti di questo amanti di quelli dovete conoscere alla perfezione se vi piace del lato investimenti non vi fate mettere i paraocchi con semplici nozioni ampliate quello che c'è nel mercato c'è tanta roba ragazzi è molto interessante e questi contesti tra le altre cose li stanno anche portando nel settore delle criptovalute con la tokenizzazione del bond americano quindi se non conoscete comunque come funziona il mercato obbligazionario link sopra la mia testa punto numero 2 l'altro asset le azioni ragazzi il mercato azionario come potrebbe agire in una situazione di recessione io le recessioni le ho viste l'ho vista quella del 2007 vi ricordo anche un po' le altre quando ero più piccolo ma quella proprio ancora ero già operativo a livello dei mercati quindi me la ricordo molto bene le recessioni di solito avvengono in questo modo bisogna scegliere quelli che sono degli asset finanziari che sono anticiclici si dice in questo modo cioè che non risponderanno alla chiamata della recessione e quindi comunque beni che devono essere consumati a prescindere anche se siamo in recessione health care la cosa principale quindi tutto quello che riguarda la salute e i beni di consumo la distribuzione cioè quello che riguarda il cibo per esempio allora tutti questi beni sono teoricamente anticiclici e in periodi di recessione dovrebbero risentire di meno di problematiche dovute appunto alla questione recessiva poi in questo particolare contesto e qui interviene il motivo che secondo me ha tenuto il nostro Nasdaq 100 così molto alto poi non sappiamo se continuerà però sostanzialmente l'ha tenuto in vita diciamo molto in alto è la questione legata alla tecnologia nuova quella dell'intelligenza artificiale questo perché ragazzi con l'intelligenza artificiale tutti quelli che sono i settori tecnologici beneficeranno di questa innovazione per una riduzione di costo enorme che potrà avvenire e questo impatterà sostanzialmente anche sugli utili quindi teoricamente anche in una mercato recessivo con un mercato parallelo che si è andato a sviluppare quello delle intelligenze artificiali potremmo assistere ad un tamponamento quindi settore tecnologico che investe nell'ambito dell'AI assolutamente e può essere messo sotto riflettore e poi abbiamo il perenne dilemma oro bitcoin ragazzi allora su bitcoin una parentesi a parte ne parlo tra poco la questione dell'oro l'oro sì oro no io non sono pro oro lo sapete l'ho detto mille volte sono pro bitcoin però il cripto però è una questione che l'oro ha poca volatilità eccetera però teoricamente è un bene difensivo e anche in contesti geopolitici come quello attuale Hamas contro Israel tutto quello che sta succedendo può essere comunque un bene rifugio da un certo punto di vista anche per livellare il tasso di volatilità del vostro portafoglio quindi evitare che oscilli troppo eccetera l'oro può essere diciamo uno di quegli asset dove andare a investire anche in un periodo di recessione di questo tipo ma a questo punto come facciamo con la questione cripto bitcoin sì bitcoin no bitcoin può essere un bene rifugio in un contesto recessivo dell'economia in un contesto higher for longer per il 2024 come può rispondere bitcoin a questa chiamata non ha mai visto tassi di interesse alti così per tanto tempo per tempo prolungato non ha mai assistito se non in tenerissima età a qualche mese ad una recessione importante o comunque indotta nei mercati finanziari abbiamo visto nel corso del tempo come in effetti bitcoin si sia anche estremamente collegato a quello che erano i mercati classici però in alcuni periodi è correlato in alcuni periodi è decorrelato quindi questo è già un grande punto a favore per il mercato delle cripto se il mercato delle cripto risponderà bene a queste chiamate soprattutto bitcoin ragazzi in un contesto del genere potrebbe in effetti essere un fiore all'occhiello del portafoglio di questo argomento ne parliamo nel prossimo video che è correlato appunto a questo al momento tenetevi questi asset che vi ho detto soprattutto occhi puntati sulle obbligazioni e bitcoin ce la fa non ce la fa ne parliamo nel prossimo video perché è un argomento straghiotto e voglio affrontarlo con tanti tanti minuti a disposizione per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video ma fatemi sapere nei vostri commenti quali sono per voi gli asset 2024 interessanti i migliori quelli che possono resistere a un'eventuale recessione impattante sui mercati ciao